Bella a tutti da Porcomods, eccoci qua in questo nuovo Trollbox Questo Trollbox è stato creato da... Cosa c'è qui? Cosa c'è regà? Non lo so, da TommyMod che sta anche in gara Vi lascio il suo canale in descrizione Cosa sono, vetri? Non l'ho mai visto questo pezzo io regà Che spettacolo, ma non si rompe, no? Che meraviglia, comunque si chiama Porcomods Trollbox Cosa succede qua? Allora, io credevo che erano vetri regà Ehi, 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 ehi Di qua, di qua, di qua, di qua Perfetto Eh, si inizia subito, sì, sì Guardate che spettacolo Andiamo, andiamo Per adesso ci sono i check di riscaldamento? Credo di sì Non so se ho messo solo un check che bisogna trovare la via oppure No, sono 22, quindi non credo, eh Intanto osserviamo la situation, regà Vediamo se c'è qualcosa di strano Ah, pure di qua bisogna andare Non è bello grande questo trollbox, eh? Adesso siamo pure belli primi per adesso Però tra poco saremo belli trollati, regà Facciamo attenzione ai muri che ci potrebbero essere quelli invisibili Oh, l'ho visto qualcosa, regà Ma questo è il primo troll? Non lo so Oh, là c'è un tubo, eh Avete visto, regà? Là dietro, un tubo celeste Questo è il primo troll Daniele è già riuscita a salire? Vediamo un po' Come hanno fatto? Come hanno fatto, regà? No, no, aspettate, aspettate, eh No, tanto è respawnato qua Cosa c'è lì? Aspettate un attimo C'è qualcosa? Non c'è niente Dai, ma aspettavo una parte Ah, no, prima ero io Nessuno ce l'ha fatta Ok, ok Cosa è successo qua? No, no, non stavo che si era buggata la macchina, regà No, no, nessuno ce l'ha fatta Meno male Allora, andiamo un attimo a guardare qua Ehi, 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 ehi Qua si può osservare un po' di roba Qua non c'è nessuna parte invisibile Se no la visuale sbatteva qua No, regà, qua non c'è niente Però possiamo cascare giù per sicurezza No, 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 no Niente da fare E respawniamo Secondo me dobbiamo trovare qualche vietta Loro provano qua Però mi ricordo che c'era pure quel tubo Non andiamo qua, regà Non voglio fare le stesse vie loro Eh, regà, qui era buono Ma nemmeno tanto Andiamo giù, regà Aspettate Che pensavo che il tubo era Tutto aperto Invece c'è il pezzo stante che sta dentro Quindi non possiamo fare un giro per salire su Proviamo dove stavano operando loro, regà Eccolo qua, Tommy, il creator Allora, già tre minuti di trollbox, regà Bello Stupendo Però secondo me si può andare in quel tubo Perché se tagliamo leggermente Ce la possiamo fare Però intanto gustiamoci Tutta questa bella Chiarerita troll Questi non erano pagati Che nella gareggia mi hanno fregato Però ho capito ormai quello è il pezzo, eh Ok, forse ho capito come andare là, eh No, qua non c'è niente Il muro mi sembra regolare, eh Perché se no si vedeva Qua è regolare? Cosa c'è qui? A che serve questo? Ah Non lo so Però forse serve che dobbiamo andare indietro dopo, regà Dovrevamo partiti Quindi a qualcosa servirà No C'è una parte invisibile? Regà, forse c'è una parte invisibile Aspettate Allora, mettiamoci bene Già che ce l'ha fatta? Sentite, un altro tentativo per sicurezza Perché devo capire se c'è una parte invisibile Ok Non lo so Sì, secondo me sì Perché da come è caduto Daniele Sì, c'è una parte invisibile Mannaggia Tommy Ma dobbiamo uscire da qua Perché escluderei Anche se un altro tentativo lo farei Però più tardi Parte invisibile Non so il perché Allora Sentite, facciamo una cosa strana Andiamo qua Allora, aspettate Ma all'inizio ci potrebbe essere qualcosa? Aspetta, aspetta Qualcuno ha preso il check Vediamo un po' Ma non credo Aspettate Tommy Che c'è? Tommy sta andando là Aspettate un attimo Voglio controllare io Non me fido Aha Guardate qua Cosa c'è E qui Se noi scendiamo qua Regà Allora No, qui non c'è niente Di che Eh, regà Questa parte comunque ci servirà Eh Ci servirà Ci servirà Respawniamo un attimo Allora Dobbiamo capire Dove potrebbe essere la via Gli altri dove stanno Aspettate State qua, regà Dov'è Tat? No, Tat lo indica prima Perché sta lì Andiamo Dove sta andando Tommy? È questa la via? No Oh Oh, regà Ma io prima No Non è questa la via, regà Oh, sì C'è che sta lì? Magari c'è una rampa invisibile qua? Vediamo No Allora Andiamo là Forse ho capito che giretto dobbiamo fare, Dania Di qua, di qua Però là c'è un'altra piattaforma No No, ho sbagliato Si può tornare indietro? Sì, meno male, meno male Bisogna andare veloci Ma mia, buttare giù il gallo, eh No, poveretto Mi spettate, eh Ok Sì Ah, c'è una rampa invisibile Sì, sì, sì Perfetto Andiamo, andiamo, andiamo Forse questo è il primo troll, eh Ok Qua c'è un'altra rampa invisibile Sì Aiuto Ok C'è pure Giovi Dovrei di qua Sì, sì Dai No io che abbiamo il primo check Eh, veloce No, no Fammi prender il check Oh, mio Dio Se che ascavo giù Qua cosa c'è? Ho visto un tubo, regà Oh, andiamo qua Andiamo qua Andiamo qua Andiamo qui A cosa servirà questa parte? No Per il prossimo troll Non credo Non lo so Comunque si può scendere pure da lì Sì, sì Si poteva scendere pure Quando eravamo saliti prima Allora A meno che non c'era un'altra via Allora Correton mi è arrivato Ok Pensate che l'avevo provata subito Quella rampetta io, eh Eh, quando si può più tornare indietro Però il check sta giù Sì, il check sta semplicemente lì Andiamo, andiamo Quanti check sono? 11 su 22 Mi ha detto che non è estremo Come trollbox, eh Tranquillo Però adesso vedremo Perché Può succedere che non troviamo la via Adesso è giù Ma come è giù? Sì, è giù, regà No? Possiamo controllare una cosa, eh Guardate Ho capito, ho capito, regà Credo di aver compreso Allora Andiamo qua Sì, esattamente qui al punto di prima Aspettate Dai che sei perfetto Su Mamma mia Ok Qua c'è un tubo Che non so a cosa serve È lì Forza Aspettate Qua non so come posso scendere Ma secondo me era questa, eh Secondo me era proprio questa la via Sicuro Aspettate Dici che è l'ATAT E se mi butto qui Sopravviviamo Aspettate Mettete bene No, regà, ho sbagliato Su Sì 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 Di qua Di qua, di qua, di qua Regà Ecco questa la via Oh mio Dio Ci siamo, ci siamo E adesso dove siamo? Di qua Il check lo indica su Ah, come si va lì? Facilmente si arriva là Aspettate Allora Praticamente dobbiamo di nuovo risalire qua Aspettate Magari i primi troll sono semplici Fino adesso mi sembra Facile come gara Aiuto Mamma mia Qui al massimo Ah no, no Aspettate No, no, regà Basta che uno si butta lì, eh A meno che non c'è la rampetta No Ma indietro Preso il check Perfetto Che pezzo è questo americano? Bello Allora Dobbiamo andare lì No, no, regà Respondiamo Andiamo qua Ok E qui è facile, è facile, regà Per chi fa parkourity Ce la dovrebbe fare E regà Aspettate, aspettate Come posso fare qui? Se c'ho un bel potere in corsa Ce la posso fare, eh No, dai Sicuramente ce la faccio là Anche perché È facile andare lì, eh Ci appoggiamo qua Poi facciamo così Ok, ok Attacchiamoci al wallride Perfetto Al muro Più che altro E adesso Bisogna andare giù Sì, sì Ehi, ehi Qua c'è una via, eh Dove sta il turbo? Sì Sembrerebbe che c'è una via, là Però per adesso non ci serve Adesso per di qua E questo check? Ah, l'ho preso L'ho preso facilmente Non male 19 su 22 Quasi è finita la gara, eh Vediamo un po' Bisogna andare Su adesso Di nuovo su Sì, sì Allora Risaltiamo qua No, forse Rimango trollato O forse Ci arrivo per un miracolo Trollato, raga Ma qua c'è qualcosa? No, qua non c'è niente Eh, responiamo di nuovo, raga Ok Dove che sto forto ce la fai Sui Sì Finalmente Dov'è il check? Loro stanno ancora parlando qui? Ok Credo di aver capito Dov'è il check Sapete Dobbiamo fare il giro Allora Andiamo al massimo Allora Qua Abbiamo capito Come si va Ah c'è un pezzo Blu sospeso Non so il perché Ok, ok Qua c'è un rampetto Invisibili Mamma mia Trollano queste rampette Nolle Aiuto, aiuto, aiuto Andiamo E qui il check Ah Sapete che forza ho capito No, devo andare dall'altra parte Perché dall'altra parte c'è il tubo che ci serve Là c'era un tubo, raga Ci possiamo riprovare a scendere giù Ma non credo, eh Troppo piano Troppo piano Comunque credo di aver capito come si arriva a quel check Perché Se noi Andiamo di nuovo su Andiamo a destra Ci dovrebbe essere la via Che attacca quello che vola Non aspettate, eh Oh, me lo ha trollato Troppo, troppo, troppo Ok Sei, ci siamo, ci siamo Allora, è qui No, è dall'altra parte Allora, raga È come stavo facendo io, sapete Eh sì Perché l'hai chiuso Ci riproviamo, ci riproviamo Andiamo lì Ma raga, qua c'è qualche via Aspettate Oh, qui è aperto C'è turbo, no? Qui dovrebbe essere chiuso Perché già vedo un'ombra strana Sì Però aspettate Il tubo Che ci serve Dov'è? Sta qua? Ah no, però da qua Possiamo arrivare Alla rampetta Ah, eccolo, eccolo, eccolo Guarda che è facile Sembrerebbe facile Ok No, esplodiamo, raga Zitti Zitti, zitti Da questa parte No, da questa Ok, ok E credo che da qua Si prenda il check, eh Vediamo No No Sono nei guai Ok, ok Non sono più nei guai Dobbiamo salire l'arica Che non è facile Aspettate Allora Sì, sì, forse Va bene Ok, ok Bisogna usare il gas Come si deve, eh Check Preso Andiamo giù Allora Io ho visto quella via nel turbo, eh Perché si vede Quando lampeggia Che c'è qualcosa lì Allora Prendiamo questo check Poi Il check sta giù No, no, no Allora aspettate Era di qua Era di qua Era di qua Poi No, lì non si può andare Qua all'inizio c'era qualcosa, raga No Quindi dobbiamo Salire qui Ok Andare qua Cosa c'è? Qui non c'è niente Ma non c'è niente Non posso nemmeno vedere Il traguardo sta giù Oh, regà Aspettate un attimo Vediamo che respawn Forse non serve quella parte Andiamo di nuovo qua Dove stava il turbo Era qui Anche qua No, non credo Vedete Qua si vede che c'è una via No, quale via Ma tra l'altro Ero sicuro Eh, no No Qui è bugato? No Qui no Aspettate No, regà Credo che adesso inizia veramente Il troll come si deve Mi sembrava troppo strano Qui Non credo, eh No No, no, no Non lo so, regà Credevo che avevo tutto sotto controllo Invece no Però possiamo ritentare qui, eh Ok Allora, saliamo qui Tommy che tesoni No, no, regà Aspettate, aspettate Ok E adesso Andiamo di qua Qualcosa ci deve essere Qui, eh Non c'è niente, vero? Allora No, 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 no Non cascare giù Check Eccola lì la via, regà Come faccio ad andare lì? Lo sapevo io Che la gara troll Sembrava troppo facile, regà Respondiamo, respondiamo Devo fare attenzione A qualcosa di invisibile, eh Allora Sono ariati tutti quanti Non saprei Non saprei, regà Perché abbiamo provato un bel po' di roba Forse bisogna riandare là sopra, eh Ho paura che bisogna riandare là sopra, regà Ma se noi andiamo sopra il check lo prende? Aspettate No, no Non lo prende, il check Andiamo di nuovo là sopra Ok, regà Siamo qua Questo tubo potrebbe essere buono Ma io come faccio a cascare qui? Regà, questo tubo è buono Ma non si può cascare qua E questo tubo ci potrebbe portare giù Al punto di prima non ci dovrebbe essere niente Come si fa ad andare qua? No, è impossibile, regà Non saprei Ok, ok Aspettate, aspettate Andiamo a controllare dove non abbiamo visto, regà Che in queste gare è meglio controllare tutto Aspettate Niente di che c'è qua Si può andare avanti? Ok Qua c'è una parte invisibile Ma credo che serviva per trollare Qua c'è un'altra parte Ma era il tubo Allora che stanno a fa Aspettate Qua è chiuso Qui pure è chiuso Allora andiamo dall'altra parte Perché se è chiuso qua Mi sembra veramente strano Andiamo qua Poi c'erano i saltellini Poi giriamo a destra Non cascare giù Non cascare giù Ok Non so se si può andare No Sì Sì, sì Allora c'è gente che sta là Al punto di inizio Che io Credo che ci sia qualcosa là Perché come avete visto prima Anzi All'inizio mi sembra che avevo controllato Non la seconda volta C'era qualcosa di interessante Ma credo che qua Non mi è sfuggito niente Vero? No Andiamo qui Forse non ci arrivo eh Però aspettate Oh 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 Ok 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 Abbiamo capito tutto raga Ci siamo buttati E abbiamo capito qual è la via Andiamo andiamo Anche perché c'era qualcuno Che si stava buttando raga Ecco perché Tommy stava Qui Allora aspettate Eh sì Si vede la parte invisibile Ok Ah no Siamo cascati raga Aspettate aspettate Che ci riprochiamo Ok all'ora Stavo prima io eh Hai giù Eh un po' C'era qua Non credo che sia cascato giù Ok Allora Fino a qua ci siamo Ci stanno anche gli altri Piano piano qua Eh Ok Danieli veloce Veloce sui Ok Rigiriamoci Aspettate eh No ovunque Trollbox tranquillo eh In confronto all'altro Madre mia È qui Aspettate È finito il Trollbox Facile 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 Comunque 25 minuti Oddio Teoricamente avrebbe vinto Danielino Però Poverino No Daniel Vai te su Vai te Danielin Te preoccupa Ok Danieli vai Quali Tommy Che Tommy è il creatore Quale prima era Vai Danieli Arriga Senza prende nessuno Ma la frego io Eh Non c'è stanno problemi Aspettate che rimango trollato Ah beh che c'era il cieca lì eh Ok ok Andiamo Vediamo se il prossimo Trollbox Che crea Tommy Lo farà bello Ard Aspettate No non mi dire che troll Io parlo Cosa c'è? Ah no Sì sì era normale Comunque sia Se vi è piaciuto il Trollbox Di Tommy Lasciate un bel mi piace Iscrivetevi al canale Passate su tutti i canali Che trovate in descrizione E noi ci becchiamo Al prossimo video Bello